Attraverso questo lavoro, che è il lavoro più bello che possa esistere, riusciamo a ridare un volto a chi oggi è invisibile. Lo faccio perché Arca dà la possibilità di dare voce a chi non ce l'ha. E per me è una missione. E l'ho scelto perché voglio un mondo più bello e migliore per mio figlio. Il motivo perché mio figlio oggi c'è è perché ho incontrato il progetto Arca in una serata di volontariato. In progetto Arca ho trovato un ambiente di lavoro valorizzante, stimolante, che crede fortemente nelle proprie risorse. Parlare con le persone, facendo questo lavoro, lavori con te stesso e con gli altri. Fare il dialogatore per progetto Arca significa intanto avere la possibilità di raccogliere fondi e poi toccare con mano dove effettivamente questi fondi vanno a finire. Dare un pasto, dare la tutela alla salute, una casa, sono tutti dei diritti umani essenziali ai quali nessuno dovrebbe rinunciare. Diventa anche tu dialogatore per progetto Arca. Vai su progetto Arca.org